musica 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 trovate amici di draggyader aspettate cazzo lol lol ve volevo un attimo far vedere una cosa adesso proveremo insieme a sfondare il posto di blocco che divide il settore A dal settore B e viene troppo da dire perché Giacomo ha iniziato il video già ci stanno a cercare guardi mi viene troppo da rite mi viene oddio che taglio che taglio oh ma qui c'ho oh che taglio ok allora andiamo allora ho messo il borsone giusto così appena ancora nudo in modo che ho la borsa però ho preso un grammo perché vorrei diciamo gustarmi un pochetto iniziamo allora iniziamo pronti 3 2 1 bò via go 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 go. No, ma non vrei, sono il cielo riuscito, è che si è in strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.